Anche quest'anno il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, Settore, Scuola e Educazione, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha dato via al progetto intitolato Mattinate FAI per le scuole. Dal 16 al 21 novembre, in orario scolastico, le delegazioni territoriali del FAI aprono le porte dei beni paesegistici ed urbani del territorio per gli studenti di tutte le scuole. A guidare le visite ci sono dei ciceroni un po' speciali, apprendisti, ciceroni, studenti anche loro, appositamente formati e seguiti dalla delegazione FAI territoriale. Guidano le classi dei colleghi alla scoperta delle bellezze delle proprie città. L'ingresso è gratuito e le classi possono liberamente scegliere di sottoscrivere l'iscrizione al FAI alla tariffa loro riservata. L'obiettivo è quello di creare nei ragazzi una consapevolezza del bene patrimoniale, storico, artistico e naturalistico, collettivo del proprio territorio. Per i ragazzi calabresi della Locride e della Piana, l'appuntamento è fissato per sabato 21 novembre dalle 9 alle 12.30. Per gli studenti che si sono prenotati è prevista una visita al sito archeologico dell'antica villa romana di Castignana. Situata a 15 chilometri a sud di Locri, questa villa rappresenta uno dei complessi archeologici di epoca romana più importanti dell'Italia meridionale. Oltre all'impianto monumentale, qui si trova il più vasto nucleo di mosaici finora conosciuti della Calabria romana. Una meta già scelta nelle scorse edizioni del FAI, questa antica villa romana ospita numerosi reperti storici preziosi, tra cui l'ultimo mosaico intitolato Il trionfo indiano di Dionisio. Scoperto nel 2008 è al momento l'unico mosaico conosciuto nel sud Italia con questa raffigurazione. Non resta allora che augurare buon lavoro ai 70 apprendisti ciceroni, i ragazzi del liceo classico di Locri Olivetti Panetta e il liceo classico e scientifico di Bovalino.